ciao a tutti visto molte richieste che mi sono state inviate volevo spiegarvi come ho creato l'intro che uso io per i miei video questa qua visto che tanto dovrò rifarne un'altra due testi collidano e si rompe e poi si riforma il testo schiaccia giù e poi si riforma bene passiamo subito nostro cinema 4d creiamo subito un pavimento creiamo un testo spline andiamo a inserire il nome metto il mio c'è un pochino mi allontano il font prendiamo un po prendiamo questo è gigante dimmisco un po' la grandezza andiamo a estruderlo ci aumentiamo un po' la profondità dell'estrusione 40 va bene un po' ok fatto questo ora andiamo editabile clicchiamo qui su il nostro per farlo diventare editabile avremo i due tappi la facciata frontale quella posteriore fatto questo andiamo sul nostro mograph e prendiamo l'oggetto frattura e rendiamo figlio il testo dell'oggetto frattura ora si vede che vedete lo frantuma praticamente separa i nostri due tappi con l'estrusione ora dobbiamo prendere il nostro qui sugli effetti prendere il frantumare e lo teniamo qui da parte un attimino clicchiamo su frattura clicchiamo su frattura andiamo su effettuatore e scegliamo effettuatore casuale ok portiamoci a 0 con il parametro x mentre aumentiamo il parametro y in larghezza praticamente facciamo 600 mentre la posizione in z portiamo a 500 ah scusate meno 500 manca di più ok via fuori mettiamoci dritti importante che esca dalla visuale della camera che poi metteremo quindi andiamo così abbondiamo visto che il testo è grande poi andiamo sull'oggetto frattura dobbiamo mettere il andiamo su oggetto qui a posto di modo dritto dobbiamo mettere esplodi i segmenti ok vedete che ha esplosi i segmenti praticamente li ha separati completamente andiamo ad andare un attimo ancora sul nostro effetto casuale effettuatore adesso mi diminuiamo perché mi sembra troppo esagerato ok anzi se no mettiamo al contrario mettiamo a 800 adesso non sono stato bene a segnarmi tutti i parametri che avevo messo nel progetto iniziale però va bene lo stesso ad esempio diciamo la procedura è questa e allora fatto così dobbiamo fare altro che prendere il nostro oggetto frattura lo posizioniamo andiamo indietro nella timeline adesso lo faccio da 90 fotogrammi che va bene ci spostiamo fuori fuori dalla visuale control premuto e clicchiamo su questo pallino qui per registrare il nostro keyframe scusate per la posizione andiamo sposto un po' 30 fotogrammi e ritorno nella posizione normale a 0 a 0 control e pallino e registra la posizione ok torniamo indietro andiamo sull'effettuatore casuale forza siamo su effettuatore forza lasciamo a 100% registriamo con il control spostiamo su 35 e lo portiamo a 0 e registriamo così così si unirà magari portiamolo anche un pochino più avanti e diminuiamo l'entrata sarà più veloce vediamo ok ok andiamo magari di aggiustare qualche parametro sul casuale diminuiamo un po' per mescolarli per mescolarli mettiamo 300 ma va bene ok ok per adesso qui ci siamo frantumare lo vediamo poi dopo ora andiamo sul mograph testo mograph selezioniamo facciamo video sempre il font vabbè prendo questo via andiamo su oggetto clona trascendiamo dentro il nostro testo andiamo su oggetto clona facciamo lineare il conta mettiamo 1 spostiamoci nuovamente più o meno così lo portiamo su in alto fuori dalla visuale siamo qui a posto facciamo clona andiamo su effettuatore effettuatore casuale anche lui vediamo se l'ha memorizzato memorizzato spostiamo il parametro di 60 dimendiamo un po' l'altezza deve uscire dalla visuale andiamo sul nostro oggetto clona tasto destro del mouse mograph tag corpo rigido ora questi due elementi interagiranno tra di loro praticamente con il motore mograph dandogli un corpo rigido il mograph andrà a picchiare contro il pavimento trovando praticamente un ostacolo ok ora accade perché naturalmente è un po' bisogna estruderlo il testo cosa che faccio subito andiamo in 50 la profondità animazione adesso parte da zero ma non deve partire da zero ok allora partirà noi la faremo partire quando lo diciamo noi per esempio da 50 andiamo sul nostro e clicchiamo qui sul mograph dobbiamo fare spunta via abilita clicchiamo per registrare sempre col ctrl il tasto del mouse sinistro andiamo avanti di due keyframe abilitiamolo e registriamo ok ora accadrà dal momento che noi abbiamo registrato il nostro keyframe perfetto possiamo anche aumentare un po' l'altezza andando anche sul nostro oggetto clona tranquillamente alziamo appena appena perché si vedeva qui nella visuale perfetto fatto questo non ci resta altro che fare cosa ah torniamo adesso al nostro frantumar frantumare dobbiamo renderlo figlio del nostro testo quindi cosa facciamo andiamo su oggetti creiamo un oggetto nullo ci inseriamo dentro il frantumare e il nostro oggetto frattura ora andiamo dove c'è il testo quando andrà a picchiare sopra ora penso che devo aumentare qualche fotogramma si faccio di 180 perché dopo ci sarà l'altro l'altro effetto 180 fotogrammi allora quando picchia da qui facciamo interagire il frantumare sul testo andiamo su forza e lasciamo la zero clicchiamo il control per registrare facciamo un keyframe avanti e lo portiamo a 80 registriamo l'altro facciamo facciamo ribalzare spostiamo di 130 clicchiamo ancora forza e ci spostiamo di un fotogramma avanti zero e registriamo e che ci spostiamo ci spostiamo